Ciao a tutti, oggi prepareremo la marmellata di limoni. Il tempo di preparazione della ricetta è di due giorni più due ore circa. Ingredienti sono limoni non trattati e ben lavati, zucchero semolato e acqua. Abbiamo lavato per bene i limoni, li abbiamo tagliati a fettini e abbiamo tolto i noccioli. Adesso li metteremo a bagno con acqua e li lasceremo a bagno per due giorni cambiando l'acqua due volte al giorno mattina e sera. Trascorsi i due giorni scolare i limoni, mettere i limoni nel boccale, mettere l'acqua fino a coprire i limoni. Abbiamo messo circa 800 grammi di acqua. Adesso azionare il bimbi per 15 minuti, 100 gradi, velocità 1. Scolare i limoni mettendo da parte 350 grammi di acqua di cottura. Abbiamo scolato i limoni, li abbiamo rimessi all'interno del boccale. Adesso aggiungiamo lo zucchero, l'acqua di cottura messa da parte. chiudere con il coperchio, posizionare il varoma senza il coperchio e cuocere per 40 minuti, 100 gradi, velocità 1. Mettere il misurino e tritare per 15 secondi a velocità 8. verificare la consistenza della marmellata con un cucchiaino. e se necessario proseguire la cottura per 10 minuti, temperatura varoma, velocità 1. La marmellata è pronta. Trasferire in basetti di vetro sterilizzati, chiudere e capovolgere e lasciare raffreddare completamente prima di rigirarli. marmellata di limoni. Si conserva in dispensa per 6 mesi. Dopo l'apertura, conservare in frigo. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!